Leonardo Silva Revisore Abbiamo vissuto una pandemia, stiamo vivendo una crisi energetica, e il futuro che ci si prospetta davanti è un futuro con dei problemi sicuri da un punto di vista ambientale, sociale ed economico. Bene, qualcuno di voi potrà pensare che discussione pesante, ed ha pienamente ragione, perché parlare di futuro non è mai una cosa leggera, non è mai una cosa facile, perché ci sono questioni pesanti, questioni complicate, ma è anche vero che noi ci mettiamo di nostro. Ci mettiamo di nostro perché abbiamo un racconto di futuro molto pessimistico, quasi, direi, hollywoodiano, come se noi facessimo parte di questo film dove alla fine non finisce mai con un lieto fine, dove ci sono sempre problemi su problemi. È un po' il nostro atteggiamento nei confronti del futuro. In più, mettiamoci dentro una parola una parola che nel tempo è stata svuotata, utilizzata tantissime volte e oggi non sappiamo più che significato ha, la parola sostenibilità. Bene, sostenibilità, mi ricordo che prima della pandemia aveva un senso, un potere, un peso incredibile. tutti noi ci riempivamo la bocca di slogan di cambiamento, di voler modificare il mondo, il futuro, di voler modificare noi stessi, di voler cambiare il nostro futuro, il nostro modo di consumare, il nostro modo di essere consapevoli. Bene, ci è bastato un anno, quest'anno, un anno di crisi, vera, che ha cambiato un po' le nostre vite, che ha messo a repentaglio il nostro benessere, perché di questo stiamo parlando, per mandare completamente a gambe all'aria la nostra idea di sostenibilità. Oggi parlare di sostenibilità è parlare di tutto e parlare di niente. Bene, fare questa introduzione è un po' scomoda, però ci tengo a farla perché molte volte è la base della discussione sul futuro e sulla sostenibilità. Oggi vorrei raccontarvi una storia in grado di potervi dare un'altra visione di futuro e un significato più preciso di sostenibilità. In questo caso vi racconterò la mia storia, la storia di una scoperta. Io mi chiamo Lorenzo Cannella, ho 32 anni, e sono uno scienziato del mare e da qualche anno faccio l'imprenditore agricolo. La storia incomincia 15 anni fa, quando ho incominciato l'università, ho studiato il mare, e all'epoca già si incominciava tantissimo a parlare, si parlava tantissimo di cambiamento climatico, dell'impatto dei mari, che il pesce in mare stia finendo, degli inquinanti, dei contaminanti, della plastica, di problemi su problemi. E noi come generazione capivamo di quanto potevamo essere importanti, di quanto quell'università, quelle università, potevano essere importanti per prepararci per il futuro, per la sfida del domani. Bene, nonostante volessimo dare un contributo al futuro, non riuscivamo bene a capire noi in che posizione stare nei confronti del futuro e del presente. Ci sentiamo un po' disorientati, non riusciamo a capire come poter essere determinanti. In quegli anni ho approfondito la tematica del come poter produrre più cibo in maniera sostenibile, perché dovete sapere che da qua ai prossimi anni continueremo a crescere sempre di più a livello di popolazione mondiale, e ci sarà sempre più bisogno di cibo, e ci sarà sempre più bisogno di risorse. Il problema è che le risorse non sono infinite, anzi, sono le stesse che abbiamo oggi. Quindi dobbiamo imparare a produrre meglio e di più. Io nella Fattispes ho approfondito la parte della produzione ittica, quindi come possiamo allevare del pesce in maniera più sostenibile. Allora, immagino che tutti voi conosciate che cos'è questo. Un pesce rosso, un acquario. Ognuno di voi forse l'ha avuto a casa o conosceva un amico. Come funziona far crescere un pesce rosso? Molto semplice. Semplicemente diamo del mangime al nostro pesce e tutti i giorni lui andrà a crescere. In cambio, ogni giorno, lui ci regalerà due cose. La sua crescita e della sostanza organica. Cacca, per capirci, per essere chiari. Bene, per far sì che il pesce cresca nelle migliori condizioni possibili, noi tutti i giorni dobbiamo andare a cambiare una parte dell'acqua. Che facciamo? Prendiamo quest'acqua e la buttiamo nello scarico del lavandino. Facilissimo. Bene, ora immaginatevi di avere delle vasche che sono grandi 100 volte, 200 volte più grandi di questo acquario. E all'interno di queste vasche non abbiamo più un pesce rosso, ma abbiamo un pesce edibile, quindi un pesce che si può mangiare. Come funziona allevare un pesce? Alla stessa maniera. Diamo del mangime, il pesce cresce e ci regala tanta sostanza organica. Il problema è che ora non possiamo vendere quest'acqua e buttarla nello scarico del lavandino. Che ne facciamo? Idea. Buttiamola in ambiente. Impatto ambientale. Bene, un giorno qualcuno gli vende un'idea. Perché non utilizziamo quest'acqua per darla alle piante? Ora, qualcuno di voi starà pensando, bella idea, andiamo a regarci i campi. Diciamo che le piante possono essere coltivate in tante maniere. Una di queste maniere è poter coltivare le piante in acqua. Ovvero, le piante possono andare a galleggiare in acqua attraverso delle piattaforme ed essere in contatto diretto con l'acqua attraverso le radici. Quindi le radici vengono immerse in acqua, assorbono i nutrienti e l'acqua di cui hanno bisogno e le piante vanno a crescere. Ora, fermi un secondo. Noi sappiamo che da una parte abbiamo una vasca con i nostri pesci che cresce e ci regala tanta sostanza organica. Dall'altra abbiamo una vasca con delle piante che per crescere hanno bisogno di nutrienti. Incominciamo a vedere un collegamento. Però manca qualcosa. La parte fondamentale che manca la fanno loro. I batteri. L'organismo più antico al mondo ci permette di trasformare qualcosa che è uno scarto, un rifiuto che potenzialmente può impattare l'ambiente in qualcos'altro. Riesce a trasformare in un altro prodotto che in questo caso può diventare fertilizzante naturale. Ora, ricapitoliamo la questione. I pesci crescono, mangime ci danno sostanza organica. Prendiamo quest'acqua e la diamo in un'altra vasca ai batteri che la trasformano per essere riutilizzata come nutriente. Prendiamo quest'acqua che è acqua e nutriente e la diamo in un'altra vasca dove ci sono le piante che assorbono i nutrienti e crescono, andando a depurare l'acqua. Alla fine di questo noi potremo prendere l'acqua delle piante e riutilizzarla nuovamente per il circuito. Vi ho appena spiegato un sistema di produzione chiuso, ovvero dove le materie girano all'interno, un sistema che si chiama acquaponica. Noi all'interno di questo sistema non solo possiamo andare a riutilizzare le materie, ma stiamo andando a ricreare un ecosistema naturale. Non ci stiamo inventando qualcosa, stiamo andando semplicemente a imitare la natura. Perché abbiamo messo insieme degli organismi che vanno a lavorare insieme. E questo sistema ci consente di andare a ridurre l'utilizzo di acqua, perché andiamo a usarla in maniera efficiente. Andiamo a riciclare, a riutilizzare la sostanza organica che è impattante in qualcosa di diverso, in fertilizzante. E in più, come già ho detto prima, siamo in delle vasche, quindi siamo fuori dalla terra. Questo significa che noi non impattiamo la terra e la terra non impatta noi, perché purtroppo oggi in molti terreni dove andiamo a produrre di cibo sono inquinati. E la cosa più incredibile, dato che siamo fuori dalla terra, è che possiamo andare a realizzare questo impianto in campagna all'interno di una serra come possiamo andare a realizzare in città, anche all'interno di questa sala. L'unica cosa che manca è la luce. Cioè andiamo a mettere i led. Bene, a me questa scoperta cambiò completamente la mia visione di vedere le cose. La mia visione di cominciare a vedere le cose come un sistema. Perché non solo ho trovato una maniera efficiente e sostenibile per poter produrre del cibo, ma potevo anche andare ad aggiungere un pezzo che mancava al mio puzzle, quel pezzo che non riuscivo a trasformare le belle idee di sostenibilità in azioni, in maniera concreta. Attraverso questo ero riuscito a trasformare delle belle idee in qualcosa di concreto. Ma non basta. Chiaramente non basta mai. Quindi la cosa che manca è comprovare che questa bella idea funziona. Perché dalle nostre parti se le cose non funzionano non servono. Bene, e fu allora che penso presi la decisione più coraggiosa della mia vita. Io all'epoca mi trovavo all'estero, decisi di incominciare di fare un'impresa e di tornare a casa per farla. Ora, metto un secondo in pausa questo racconto e analizziamo la cosa. Io ho 32 anni, appartengo a una generazione che è nata con le valigie in mano, con l'idea di esplorare il mondo per imparare e per restarci, non per tornare. E non vuole tornare perché casa non gli piace. Non vuole tornare perché ci sono dei motivi. Perché a casa ci sentiamo all'interno di un fuoco incrociato dove da una parte ci sentiamo dire da quando siamo nati che saremo precari, che saremo disoccupati, che il nostro futuro è pieno di difficoltà. E dall'altra ci sentiamo dire voi domani sistemerete il futuro. Voi domani avrete le competenze per poter riparare quello che abbiamo fatto. Un po' di pressione, giusto un po'. Però la cosa che mi fece scattare la voglia di fare fu che mi ero un po' stufato che ogni volta che guardavo online progetti incredibili, le cose più belle e futuristiche diciamo, erano sempre fatte dall'altra parte del mondo, sempre fatte in Australia, sempre fatte in Nord Europa, sempre fatte in America. perché non possiamo fare qualcosa del genere a casa nostra? Perché no? E soprattutto io che scusa avevo per non provarci? E fu allora che qualche anno fa decido di tornare a casa per fare l'impresa. Ora ci tengo a sottolineare perché qua andiamo a comprovare che questa cosa può funzionare, che l'acqua aponica può funzionare, non solamente da un punto di vista numerico, come vuole l'impresa, ma da un punto di vista proprio romantico della parola impresa. Perché per lanciarsi in un'avventura del genere ci vuole coraggio e ci vuole voglia, perché ci vogliono compagni di viaggio, perché il percorso sarà pieno di ostacoli, sarà complicato, ma è un percorso che oggi dobbiamo fare perché dobbiamo comprovare non solo che possiamo produrre in questo caso cibo in maniera diversa, ma perché serve di più, serve avere il coraggio di portare educazione, avere il coraggio di portare cultura, cultura per capire che oggi è necessario spiegare come possiamo produrre cibo, quante risorse servono, che impatto possono avere per essere più consapevoli, per dire la verità a noi stessi. E soprattutto bisogna portare cultura anche sotto altri punti di vista, la cultura dell'essere inclusivi, inclusivi anche nei confronti di persone che sono sia normodotate che hanno sia disabilità, perché bisogna ricominciare a ridare dignità all'uomo. E non per ultimo inclusione nei confronti dei giovani, nei confronti di quei giovani a cui io appartengo, che sono disorientati, che sono confusi, che non sanno cosa aspettarsi dal futuro. Bisogna raccontare belle storie, bisogna raccontare storie che possono trasformarsi in realtà. Alla fine di questa storia, che cos'è la sostenibilità? Bene, io penso che la sostenibilità sia un'eredità, sia un patrimonio che lasciamo alle future generazioni. Sostenibilità, sia chiaro, non è riutilizzare le sostanze, è andare a risparmiare acqua, è un processo innovativo, ma è qualcosa di più la sostenibilità. La sostenibilità è un modo di pensare, è un modo di pensare nuovo, perché dobbiamo capire che il mondo nel quale viviamo è un mondo complesso, dove non possiamo più agire da individui, dobbiamo cominciare ad agire da ecosistema, un ecosistema che è in grado di essere inclusivo, sostenibile e multidisciplinare. E soprattutto questa complessità, non dobbiamo averne paura, complessità significa biodiversità, essere diversi e non riuscire a capirci. Non dobbiamo averne paura, dobbiamo spiegarla, dobbiamo chiarirla, raccontarla. perché se noi andiamo a spiegare a un adulto, a un ragazzo, a un bambino, come funziona la natura e come cresce una pianta o un pesce, andiamo a raccontare in primis la complessità, la bellezza, la biodiversità della natura e andiamo anche a spiegare perché dobbiamo proteggerla, perché dobbiamo gestirla in maniera diversa. E in più, se gli spieghiamo questo, gli possiamo anche spiegare come possiamo allevare e coltivare un pesce o una pianta e che lo possiamo fare in modo sostenibile e che uno di questi modi sostenibili si chiama acquaponica e che l'acquaponica ci permette di andare a allevare e coltivare un pesce o una pianta in campagna come in città. Ora, immaginate di mettere tutte queste informazioni all'interno del più potente computer che abbiamo sulla Terra, che è il nostro cervello. Bene, il nostro cervello andrà a elaborare in un anno, in cinque anni, in dieci anni, tutte queste informazioni e andrà ad avere una visione di futuro fatta di belle storie, fatta di ottimismo, fatta di idee e di soluzioni che saranno in grado di affrontare non più i problemi, ma le sfide del futuro. Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.